Superbacchini Madonna drittissimo Madonna drittissimo Madonna drittissimo Quello la è quello che si gioca L'europeo Quello che si gioca l'europeo O di cosa è quello la Perchè bandiera rossa? Bandiera rossa si fermano Vai Sono partiti Vediamo arrivare In fondo a Europa Ci saranno dei contatti subito Però sembra E' un'altra Grazie Si va via per questo primo giro Alla passaggio in Fonocello L'autobattina Nantoni Andraschiotta Tushet Macincani Smenen Sramo e Gallot Vediamoli Sono Nella parte Nella centrale del primo giro Vediamo come andrà a chiudersi questo primo giro Ecco che si sta Concordendo con Bandiera da Mattia Auto Engineering Ambers John Takakush Macincani Perchè 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 Puoi seguire Già a poter ritardo però Il campionato europeo guida per il momento le fila in questa semifinale numero 2. Il campionato europeo guida per il momento le fila in questa semifinale numero 2. Il campionato europeo guida per il momento le fila in questa semifinale numero 2. Il campionato europeo guida per il momento le fila in questa semifinale numero 2. Il campionato europeo guida per il momento le fila in questa semifinale numero 2. Il campionato europeo guida per il momento le fila in questa semifinale numero 2. Il campionato europeo guida per il momento le fila in questa semifinale numero 2. la semifinale numero 3. Il campionato europeo guida per il momento le fila in questa semifinale numero 3. Il campionato europeo guida per il momento le fila in questa semifinale numero 4. Buongiorno a tutti. E adesso Nicodem potrà approfittare addirittura per laurearsi già campione europeo in questa gara. Buongiorno a tutti. 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 della Sombro Buggy con... Devo arrivare, capite? Con me! Deve... Cambio in classifica Mi ringrazio Continua, con l'Uber Dewey, dal terzo nella classifica generale ma mai stancato di troppi punti da Metro e Nicodem che ha vinto Ma... 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 Riccardo, otto amato Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.